Il Movimento 5 Stelle della Campania, nella persona dei consiglieri regionali, lancia la proposta di legge che prevede un super bonus regionale. E' la nostra legge per salvare imprese e occupazione, dicono. Un modo per riprendere il discorso iniziato con i bonus del governo ed oggi purtroppo ha lasciato sospeso. La proposta di legge è stata presentata durante una conferenza stampa tenuta dal gruppo consigliare in Regione Campania. E' una proposta di legge che serve a superare le criticità contro cui sta facendo i conti questa misura, che è una misura strategica che ha registrato dei numeri importanti per il PIL nazionale. Parliamo del blocco dei crediti fiscali. La Sardegna e la provincia di Treviso stanno già facendo questa cosa che andiamo a presentare oggi. Quindi la Regione Campania ha la possibilità di essere parte attiva in questo discorso. Il governo centrale ha abbandonato migliaia di imprese e centinaia di migliaia di lavoratori al proprio destino, ha depotenziato una misura che era al 110% portandola al 90%. La Regione Campania può fare la sua parte in questo discorso acquisendo direttamente questi crediti, sbloccando tutto il meccanismo, dando ossigeno a delle imprese che ad oggi sono ferme, bloccate. Soltanto nella città di Napoli abbiamo 800 condomini e 4.000 case con cantieri bloccati. La misura del super bonus ha fatto bene alla nostra economia, ha generato 900.000 nuovi posti di lavoro, ha fatto crescere il PIL, ha contribuito per il 20% a quella crescita del PIL del 6,6% del 2021. Purtroppo noi in questi mesi abbiamo lavorato per sbloccare la cessione dei crediti di imposta perché sappiamo che ci sono 25.000 imprese. Questa è l'ultima stima ANCE a rischio di fallimento perché hanno i crediti incagliati nei cassetti fiscali e non abbiamo trovato accoglienza e condivisione da parte delle altre forze politiche di questa maggioranza e del governo che evidentemente non intendono intervenire per sbloccare questa cessione dei crediti. È necessaria, dovuta perché queste sono aziende che si erano affidate allo Stato. La regione Campania può seguire l'esempio della regione Sardegna. In questo caso questo fondo che all'inizio è di circa 100 milioni di euro sarebbe comunque un fondo che si va non solo a riminquare dall'esterno ma anche internamente si compensa perché la regione potrà comprare crediti che sono incagliati, crediti di imposta che derivano da bonus edilizi e li può usare per esempio in compensazione per pagare gli F24 delle sue spese per i dipendenti sanitari. Questo è un esempio.